Allora di rosso oramai dalle feste mi è rimasto solo il pullover caro Giulio Però è passato di tempo diciamo E anche una consapevolezza Quale consapevolezza? Abbassala Che io sono un tuo gregario Il mio gregario Così dice un nostro follower No perché di strali ce ne siamo presi in queste feste Porca miseria ragazzi Durante le feste ce le avete fatte passare proprio in serenità Sponsorizzazioni Non sappiamo come è fatta la classe D Cioè oltre ad esserce la presa in testa Comunque non sappiamo come è fatta E insomma come dire A parte qualcuno che con grande piacere da parte nostra Ci ha fatto gli auguri di Natale Però c'è stato anche qualcuno che Esatto Quindi vuol dire che quando la gente non c'ha niente da fare Si sfoga un po' di più Vabbè ma noi Caro Giulio ce ne come dire Faremo una ragione Ce ne faremo una ragione Ce ne faremo Molto bene Allora Yamaha RN2000 Abbassa Yamaha RN2000 Quindi è un secondo Yamaha Che facciamo a distanza direi di un sei mesi Sei mesi più o meno E mi fa piacere pensare che Yamaha Italia Che ci ha mandato questo receiver Assieme a questi fantastici diffusori Che devo dire Mi piacciono da morire Che si chiamano NS800A Contra nella mente a qualche follower Pensa che qualcosina magari ne capiamo Se no non ce l'avrebbero Bravo esatto Esatto Ma sai perché Perché siccome questi non sono amplificatori in classe D Li possiamo provare Perché ancora ci capiamo qualcosa sulla classe AB Solo per questo Forse Va bene procediamo Allora a me ha fatto tanto sorridere Il fatto di ricevere un receiver Che era un termine che io non sentivo da parecchio tempo Però questo che è un apparecchio che ha veramente tutte le caratteristiche possibili e immaginabili Nell'ambito dell'audio puro In realtà è un receiver perché ha un sintonizzatore a bordo FM DAB DAB che sta per Digital Audio Broadcast Broadband Broadcast Broadcast mi pare Benissimo Detto questo comunque Oltre a questa funzione E' un amplificatore integrato rigorosamente di classe AB Quindi standard progettuale che non provoca l'orticaria ai nostri amici audiofili Esatto E quindi più tradizionale Pesa uno schianto bisogna tirarlo su in due A un alimentatore toroidale Boom Bello Bello Insomma proprio Speriamo di non Deludere le attese Esatto Di non tirarci gli strali di qualcuno Esatto Di chi si è arrabbiato perché siamo troppo amici della classe D Benissimo Allora andiamo alla descrizione Che di cose da dire ce ne sono parecchie Anche troppe Ok Ciao Ciao Oh posso dire subito una cosa? A me lo Yamaha già di per sé spento mi piace Perché tra queste manopoline che mi ricordano i nostri vecchi tempi andati Questi splendidi w-meter che non sono troppo grandi Che hanno anche la funzione dimmer Che forse Facciamo vedere Forse riusciamo a farla vedere No perché ci vuole un po' di tempo a basta E il lettering è già quello mi conquista di per sé Di per suo Io lo abbiamo accennato in uno degli ultimi video che abbiamo fatto Poco prima di Natale abbiamo ricevuto un cospicuo carico di apparecchi Senza nessuna diciamo preorganizzazione Proprio frutto di casualità Questa volta sono arrivati apparecchi giapponesi È arrivato Yamaha È arrivato Technics Di cui poi parleremo La cosa che mi ha fatto particolarmente piacere È che io ho notato una sorta di ritorno all'audio quello impegnativo All'audio quello vero Di questi due marchi Io Technics era uscito proprio completamente dal mio radar Yamaha no perché Yamaha Yamaha c'è sempre stato Però toccando con mano Quel non mi ricordo 3002 si chiamava 3002 3002 e questo qui è accidenti Cioè non sottovalutare la potenza della progettazione della manifattura nipponica Perché sono prodotti fatti veramente bene Sì Aprendoli e toccandoli avendoci a che fare Hai la netta sensazione di avere a che fare con un prodotto di gente che lo sa fare Che lo sa fare E hai la netta sensazione anche di avere a che fare con gente che fa continuamente innovazione Cioè noi nell'ambito della nostra high-end europea Ci beiamo di quanto è fatto bene il connettore Di quanto è fatto bene il telaio Di quanto è fatto bene il trasformatore Della scheda, la PCB che è spesa Su questi prodotti giapponesi c'è gente che fa ricerca e innovazione Che è un po' differente come discorso Anche perché avendo questo amplificatore Poi lo vedremo nello sventramento Nonostante un prezzo di destino conveniente per tutto quello che c'è La costruzione interna è una costruzione da mettersi le mani nei capelli Quelli che ci sono rimasti in senso positivo In senso positivo Quindi da questo punto di vista veramente complimenti Allora andiamo Per ordine Per ordine Che cosa fa questo amplificatore? Questo è un amplificatore integrato Dotato di una serie di ingressi linea Quindi 3 o 4 3 mi pare sì Poi 1 marcato CD Dotato di un ingresso Fono Di un pre Fono M&M E dotato di due coppie di Conrettori selezionabili A e B Selezionabili A e B Di una pregevole piattaforma digitale Dove ci sono due ingressi ottici Un ingresso USB Per collegare un PC esterno Nella fattispecie in questo momento Noi stiamo andando con un Raspberry Collegato in USB Che sta facendo da RuneBridge Quindi a sua volta è collegato a un server Rune Che non sta in questa stanza Poi c'è una presa network Che è cablata Che dà accesso alla piattaforma multicast Yamaha Musiccast Musiccast Ma ti sei scordato l'HDMI Arc L'HDMI Arc Perché c'è anche una presa HDMI Arc E tra l'altro dentro c'è anche un processore Dolby Digital DTS Il che mi fa presupporre Che questo integrato ingoi anche gli stream Dolby Digital e DTS E li up-sampla a 2.1 Perché ha anche un'uscita sub Ha anche un'uscita sub Un'uscita sub e un'uscita pre-out Da quello che abbiamo detto dovrebbe essere abbastanza chiaro Che questo è un prodotto Destinato al salotto di casa Alla living room di casa Probabilmente vicino a un televisore Probabilmente vicino a una bella coppia di speaker Esatto Di pregevole fattura Come ad esempio potrebbero essere questi Della stessa casa mamma Ma permettimi però Queste sono talmente belle Che le proveremo con un integrato i-end Perché queste sono talmente belle Giulio Che me le potresti regalare per il prossimo Natale Ah beh C'ho un anno da parte C'ho un anno di tempo per mettere da parte i soldi Quindi va bene Quindi da questo punto di vista Io direi che è un amplificatore Assolutamente pieno di funzionalità Direi proprio Tutto quello che si può richiedere c'è Dal punto di vista estetico è bellissimo Anche perché si differenzia Per una parte superiore analogica E per una parte inferiore digitale Digitale Sì Visto che ha il display I due V-meter qui E sotto Ma poi c'è questo simpatico Display OLED Che quasi si nasconde Sì Però ad esempio Compare nel momento in cui uno va a cambiare Il valore del volume Piuttosto che a selezionare gli ingressi Come se questo display si destasse Esatto Ti voglio dire un'altra cosa Dimmela Della quale io non mi ero accorto Nel momento Dello Come dire Dello Dell'unpackaging Della packaging Dunque questa Yamaha Dispone di una tecnologia Che si chiama Y-A-P-O Yamaha Active Power Un acronimo In pratica che cosa succede? Che dentro La scatola dell'amplificatore C'è questo simpatico Microfonino Che si può anche attaccare Su un treppiedi E mediante una procedura Imbarazzantemente semplice Nel senso che La si fa dal pannello frontale Dell'amplificatore Schiacciando un bottone E mettendosi Buoni buoni Lui che cosa fa? Fa una sorta di DSP Quindi va a calibrare Il Diciamo La risposta del sistema In funzione Dei diffusori E dell'ambiente All'interno del quale Sono posizionati Quindi È una cosa Che noi abbiamo visto Tante volte Ad esempio Nei sistemi Della Anthem Che Del resto Yamaha Utilizza Da n anni Nei sintomplificatori Audio video Ok Quindi è una tecnologia Che per loro È una tecnologia Quasi usuale È la stessa tecnologia Che noi abbiamo utilizzato Tante volte In maniera Chiamiamola Casalinga Andando con Audio lens A farci noi Il filtro Di convoluzione Caricandole poi Sul run Questo Rende questa tecnologia Come dire Così Click Boom Si fa la sua calibrazione E dopo ti accorgi Che effettivamente Suona meglio Ma Se volete rimanere Analogisti puri C'è un bel tasto Che si chiama Pure direct Posso schiacciare Assolutamente Ecco Con pure direct Pure direct Va Elimina Qualsiasi Sistema digitale Se non il DAC Perché se il DAC Elimina anche i controlli di tono Elimina tutto Il balance E rimane Ingresso Volume Sezioni finali Punto Punto Assolutamente Quindi potete scegliere Quindi va detto Che per utilizzare Questo Artificio Del microfonino E della correzione Dovete invece Non stare Su pure direct Ma accettare il fatto Che il segnale Subisca Una Manipolazione Nel dominio digitale Esattamente Per cui se avete Un ingresso digitale Non succede proprio niente Perché tanto siamo già Nel dominio del digitale Se invece state sentendo Il giragis Sappiate che Il segnale viene convertito Da analogico In digitale Passa per il DSP Esatto E poi viene riconvertito Come avete potuto dirlo Come avete potuto dirlo Eretici Maledetti Esatto Poi sai Mi fa ridere Perché allora Tanto per citare Forse il miglior streamer Che c'è sulla faccia della terra Che è il Climax DSM Quello della Lin Che siamo sotto i 50k Sì Converte tutti gli ingressi Analogici in digitale Forse sono stupidi Sono stupidi Sì Forse sono stupidi loro Va bene Non è probabile Va bene Ovviamente L'apparecchio È dotato Di un ricco Ti prego di prenderlo Ah il telecomando Con il quale Si fa praticamente tutto Passiamo su questa camera Esattamente Con il quale Si fa praticamente tutto Eccolo lì E Altro da dire Ah poi vabbè C'è La assolutamente Imperdibile Uscita cuffia No e basta Giulio Adesso Allora molto presto Cari Fili Wars Noi proveremo Delle cuffie Perché sto lavorando In quel senso Perché lui ovviamente Fa Orecchione da mercante Vi posso E Vi assicuro È vero Io durante Le vacanze di Natale Sono stato Per due ore Ad ascoltare Con la cuffia Che noi abbiamo Qui In sala Per cercare In tutti i modi Di Abituarmi A questo futuro Corso Di audio 2G E com'è andata? Lo dico La prossima Ok Vabbè Allora penso Che abbiamo detto tutto Possiamo andare Allo sventramento Che mi emoziona Particolarmente E mi incuriosisce molto Ok A tra poco Ciao Yamaha RN2000A Ah quanto è bello Ah quanto è bello Prego Giulio Accomodati Mi accomodo Che faccio Lo illumino Ma illuminalo Sì 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 Allora Com'è stata L'apertura Faticosa Faticosa Un po' faticosa Perché Ha un Un coperchio Sì Che è fatto Talmente bene Che non si toglieva Anche con tutte le viti Però questo coperchio Possiamo dire Che fa parte Di una delle tante Tecnologie Presenti in questo Apparecchio di Yamaha Che è Diciamo Volta all'isolamento Della parte interna Della macchina Rispetto all'esterno Esatto Ma volevo Prima di tutto Far vedere I nostri fillers Uno dei due Una delle due Fiancatine Questo è Un pezzo di legno Giralo Legno 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 Esatto Facciamo sentire il rumore Toc toc Questo è legno legno Finitura Piano black Con ditate Con ditate Facciamo vedere Ecco Ti piace tanto Sì sì Qua c'è proprio il dettaglio Sulla ditata Si vede benissimo Sto sentendo male Mi sta venendo Si sta contorcendo Sì esatto Va bene Ok Toglio Toglio Grazie Grazie Finitura Dei pianoforti Perché la Yamaha Con la stessa mano Un po' lucida I pianoforti Un po' lucida Le fiancate Degli amplificatori Allora Trasformatore toroidale Simile al 3002 Che abbiamo già provato Sì Un po' più piccolo Possiamo vedere Le sezioni di potenza Che dal punto di vista Del circuito stampato E secondo me Anche dello schema Anche se questo è un po' più Semplificato Sono le stesse Del 3002 Ma come potete vedere Cari fillable Con meno componenti Ci sono un po' Di parti vuote Esatto Queste parti vuote Sono quei Componenti Che Si possono non mettere Per rendere Una scheda Idonea Al 2000 O al 3000 E due Sessione di filtraggio Sessione di filtraggio E di alimentazione Davvero molto interessante Perché Oltre a questi Quattro condensatori Della Nippon Chemicon Che possiamo Marchiati Yamaha Anche Esatto Ma questo Vedi Chemicon Ok 18000 microfarad Quindi 18 E 18 Per sezione di amplificazione Quindi per canale Che facendo sfoggio Delle mie capacità Di calcolo Fa 36 Bravo Vedo che ti ricordi Sissimi Fino alle addizioni Ci arriva Come si fa da somma Bene Allora poi vediamo qui 1, 2 e 3 E qua E 1, 2 e 3 Da quest'altra parte Questi sono i ponti Ratterizzatori Sissimi 1, 2 e il terzo Sta qua sotto E simmetricamente E simmetricamente All'altra parte Che magari si vedono Anche meglio Sissimi E questi sono Ponti Ratterizzatori Separati Per i canali E che alimentano Le varie sezioni Di preamplificazioni E digitali Che infatti Hanno dei condensatori Elettrolitici Dedicati Per ogni sezione Ma Non solo questo La Yamaha Ci tiene particolarmente A far sapere Al pubblico Ai suoi appassionati Che usano Tutto cablaggio Che finisce Con delle viti Di rame Queste sono Viti in rame Che io non ho smontato Ma vi assicuro Che lo sono E le vediamo Anche qua Facciamo vedere Giulio Ok Anche questa Che è Tutta la scheda Digitale E analogica Di preamplificazione Che viene alimentata Attraverso Questo tipo Di sistema Ma Non Andiamo via Ancora Dalla parte Di filtraggio Finale E toroidale Per far vedere Quanto è fatta bene La sezione Che Che governa Il pannello frontale La cosa Che più Balza all'occhio E che difficilmente Si può trovare In un amplificatore Soprattutto di questa Classa di prezzo Sono i due VMA Eccoli qua Eccoli qua Uno e due E poi ci sono Tutti gli encoder Il display Ricordiamo Poi L'abbiamo fatto vedere Lo faremo vedere Che questa macchina Ha un display sotto OLED Molto bello Per le funzioni Networks Oh Una cosa Sulla quale La Yamaha Insiste tanto E la bontà Della costruzione Meccanica Ad esempio Il fatto che Il trasformatore Torretale È fissato Con bulloni E per interposizione Di una piastra Di rame Eccola qua Che effettivamente Si vede E c'è Anche i piedini Di appoggio Vediamo se riesco A inquadrarlo Sono imbullonati Dall'interno Dall'interno Esatto Confermo anche questo Quindi Telaio Particolarmente Rigido Tra l'altro Adesso Per far vedere L'interno L'abbiamo smontato Però lo possiamo Riappoggiare Un attimo sopra C'è un setto Di irrigidimento Superiore Che è questo Che Esatto Ecco questo È montato Qua sopra E rende Praticamente La gabbia Dell'amplificatore Particolarmente Rigida Posso dire Una stupidaggine Un setto Quasi un otto Un otto Un otto Un otto Una stupidaggine Altra cosa Scusami Che la Yamaha Tiene molto A Diciamo Sottolineare Sono I connettori Di uscita Che sono Originali Li chiamano loro Cioè Non sono Fatti da terze parti Ma sono Farina del loro sacco Ecco E visto che Introduci Questo argomento Io farei vedere L'enorme Cablaggio Con una finezza Perché I relè Che staccano E attaccano Che sono Questi due Uno E due Lì in fondo Eccolo lì L'altro Lì in fondo Sono messi Sulla scheda Subito A ridosso Dei building Post di uscita E queste Sono Relè Sia Per la protezione Che per l'inserimento Di speaker A speaker B Questi Cavi Enormi Che vedete Seguiamo Seguiamo nel percorso Finiscono in questo Connettorone qua Enorme Qua Giulio Eccolo qui Eccolo qua Che è quello che Collega la scheda Di uscita Con La scheda di potenza Bellissimo lavoro Bellissimo lavoro Un'inquadratura del pannello posteriore Esattamente dove Vediamo Questo è anche un sint E' un sint Amplificatore E' un sint Amplificatore Lo chiamano Receiver Receiver E quindi anche il sintonizzatore DUB FM Quindi con la sua Antenna Dove DUB sta per Digital Audio Broadband Broadband Esatto Hai visto come parlo inglese Malone Questo è il Fono Sessione Fono 1 2 3 Ingressi linea Un Preout Un Subwoofer Out Trigger E qui c'è Ci sono gli ingressi digitali E c'è due ottici Un coassiale Un USB B Per computer Il network Che però può essere anche Bypassato dal collegamento Wi-Fi Che tu ami tanto Per il quale c'è l'apposita antennina Che si vede Da giù in fondo Eccola qui Poi questi sono due Ingressi service USB B E USB C E questo è l'ingresso HDMI ARC Ok Quindi ARC vuol dire Audio Return Channel Che con il telecomando Del televisore Con il volume Del telecomando Del televisore Cambiate il volume Dell'RN2000 Ok Ok Adesso torniamo un attimo su Facciamo vedere la scheda Di preamplificazione E allora Voglio dire una cosa Nella mia assoluta Follia elettronica Io sono un Collezionista Di condensatori E tra i condensatori Che mi piace più possedere Ci sono questi Che sono dei condensatori Particolari Che normalmente Molto difficilmente Si trovano E sono condensatori Di altissima precisione Che trovare In misura Così abbondante È un'ottima notizia Oh Allora Il DAC E' l'SS Lo sto inquadrando 90SS 90 90 90 23 Mi pare Ok 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 Questa è tutta la parte digitale C'è anche questo chip Che è un chip Di decodifica Dolby Digital DTS Quindi questa macchina Potrebbe anche decodificare Dolby Digital E DTS E fare Il downsampling Sui Due canali stereo Ok Ok Questo è Il modulo Musiccast Della Yamaha Ok Ok Qui sotto Abbiamo il chip Che gestisce L'HDMI E infatti Possiamo vedere Il cablaggio Vedete come è fatto bene Questo cablaggio Sì Eccolo qui Cablaggio Sostampato Che finisce Nel connettore HDMI E poi Qui sotto L'ingresso Del pianificatore Analogio Quindi La scheda Con tutti gli ingressi Ok Ok Oh È molto bello Notare Come ci sono Tutti i riporti Delle masse Fatti con capi Di alta sezione Anzi Proprio 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 Ficelli rigidi Di alta sezione O addirittura E qui Lo possiamo vedere Nella scheda D'ingresso Addirittura Con barra di rame Questa è una barra di rame Si vede? Ecco Accidenti Se si vede Eccola qua E questa è una finezza Esagerata Sì sì Togli il ditino Perfetto Con il dito Sì Vabbè Insomma Costruzione Molto raffinare E' veramente Tanto di cappello Bellissima Bellissima Vogliamo far vedere Anche il frontale Già che ci siamo Facciamolo vedere Questo quanto pesa Beh e poi questo Segno bellissimo Distintivo Della Yamaha Queste Le classicissime Manopole Quelle A stecchetta Bello Complimenti Righiudiamo? Eh righiudiamo Sì Questo sono in grado Ok Per completare la prova Del 2000 Un altro pezzo Della mia collezione La 1060 Integrato top di gamma Se non ricordo male Della fine Degli anni 80 Forse Inizio 90 Il tempo Non me lo ricordo Bene Estetica Molto molto bella Yamaha Abbandona I V-meter Ma non abbandona Assolutamente Quelle splendide Manopole Che abbiamo visto Anche Nell'RN2000 Appena testato Ma la vera Particolarità Di questo amplificatore Era il telaio Interno E lo chassis Esterno Tutti Completamente In rame Potete vedere Eccola qui Quindi Trasformatore Di tipo tradizionale Ma affogato In resina Due enormi Condensatori Di filtro 150.000 Microfarad L'uno Nippon Chemicon Che ancora Oggi misurati Conservano Abbastanza bene Il valore Ponte Raddrizzatore Per la potenza E ponte Raddrizzatore Per i servizi Il circuito Di preamplificazione Ma chicca Delle chicche Era Erano sezioni Separate Quindi questa Che vedete È la sezione Di preamplificazione Sotto c'è La sezione Di potenza Che tra poco Vedremo Ma questo È un cassetto Vedete Questo è Il pannello Posteriore E questo È un cassetto Che Si tirava su Qui c'è La parte Di preamplificazione Questi sono Dei rimandi Ok Che troviamo Dei rimandi Meccanici Che troviamo Poi Corrispondere Con le manopole Sul pannello Frontale Qui invece C'è la sezione Le due Sezioni finali Con sei transistor Di potenza A sezione Eccola qua Costruita in modo Assolutamente Impeccabile Filatura Relativamente Poca E abbastanza Ordinata Questa è l'unica Cosa Sulla quale Potremmo fare Un piccolo appunto Ecco qua Il cassetto Si richiude Vedete Ma non è finita Qui Perché vi faccio Vedere Lo schermo Questo schermo Eccolo qua Vedete Schermo in rame Questo è un circuito Stampato vero e proprio Si sistema Qui sotto Si avvita Qui sotto E serve per schermare La parte di preamplificazione Rispetto alla parte finale Guardate poi Il potenziometro del volume Che è una nostra Vecchia conoscenza Perché è il potenziometro Che Dell'Alps Che viene normalmente Utilizzato Ai giorni nostri Per fare Da controllo del volume Bene Spero vi sia piaciuto Mi ha fatto piacere Condividere con voi Questo splendido Amplificatore Era tanto Che non lo aprivo E non lo accendevo Il suono è sempre Meraviglioso Ciao Il sinto amplificatore Il concetto Di altri tempi Il concetto di altri tempi Però va bene Va bene Io L'idea che mi sono fatto È questa Che questo prodotto Qui È un prodotto Pensato per un pubblico Un po' diverso Rispetto a quel 3002 Che provammo Qualche mese fa E Eh beh sì Quello era Un analogico puro Senza nessuna Sezione digitale E quindi forse Quindi forse quello Era un amplificatore Che privilegiava di più La prestazione audio Pura Laddove questo apparecchio Qui Secondo me Privilegia E ci riesce anche molto bene La versatilità La comodità d'uso La estrema configurabilità Dal punto di vista degli ingressi E quindi Probabilmente È un apparecchio pensato per Come dicevo prima Il soggiorno Di una Diciamo Persona Interessata all'audio Interessata però anche al video Interessata a Godere Diverse tipi di sorgenti Tutta una serie di cose Esattamente Con un'attenzione Devo dire Buona Che io ho apprezzato Anche al tradizionale Vinile Al vinile se vogliamo Di ritorno Perché poi La sezione fono Si è rivelata Ben funzionante Quindi Da questo punto di vista Veramente nulla Nulla da dire Che ti è sembrato a te? Che mi è sembrato Che Messo al centro È come se fosse un centro Di intrattenimento Multimediale Di altissimo livello Quindi è un amplificatore Integrato Che se lo vogliamo Stereo Tradizionale Schiacciamo Il Pure Direct Ed è Un ottimo Amplificatore integrato Se invece ci vogliamo Tutta quella serie Di features in più Digitali Blah 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 Anche Il sistema di correzione Ce l'ha E riesce quindi A ottimizzare A rendere Qualsiasi tipo Di contenuto Un contenuto Ascoltabile Con una qualità Molto molto alta Quindi va visto Da questo punto di vista Come semplice Amplificatore integrato Io non lo prenderei Proprio in considerazione Chi secondo me Ha bisogno Di un amplificatore Come questo È il prodotto giusto Con un rapporto Qualità prezzo Spaventoso Come semplice amplificatore integrato Io rivolgerei Lo sguardo Da un'altra parte Sì Ecco Forse sì Allora Il problema Secondo me È che Forse questo amplificatore Qui Io l'ho ascoltato Avendo nelle orecchie Quell'altro Yamaha Che è il 3002 Il 3002 Che francamente Quello suonava Veramente In una maniera Strepitosa Quello suonava però Come un amplificatore Da 10.000 euro Ma le costa 3.500 3.500 Esattamente Esattamente Ecco Qui Se proprio parliamo In termini di Prestazione audio E pura Non c'è lo stesso Lo stesso effetto Ora posso essere Più preciso Vai Anche E francamente La cosa poi Contradisce un po' Quello che io ho visto Durante lo sventramento Io Quello che Diciamo L'aspetto forse L'unico difetto Che io posso trovare Dal punto di vista Sonico A questo prodotto È una Sorta di carenza Di Dinamica Non tanto Macrodinamica Perché poi Sui pieni Segue E riesce a pilotare I due Tre diffusori Che abbiamo Testato Assieme Secondo me Manca un po' Di vitalità A basso livello È come se poi Scendendo Quindi quando ci sono Dei Non dico pianissimo Ma dei piano Tendesse leggermente Ad appiattire Non dico Né a comprimere Né a Distorcere Men che mai È come se Ti mancasse Quel po' Di vitalità Che invece Quell'altro amplificatore Aveva A profusione Però Ancora una volta Torniamo al discorso Di prima Cioè A chi va In mano A chi è previsto Che vada in mano Questo amplificatore Forse Ha un ascoltatore Che di questo tipo Di dettaglio Magari Se ne cura Relativamente poco E invece Si cura Molto Moltissimo Della versatilità Dell'apparecchio Ma poi permettimi Stiamo forse Applicando una scala Di valori Che appartiene A un amplificatore Di questa classe Di prezzo Assolutamente Perché stiamo parlando Ma per rimanere In casa Yamaha Ma mi verrebbe Qualche altro Qualche altro Esempio Di paragonarlo A macchine E prodotti Di livello Completamente diverso Se sommiamo Un music streamer Un DAC Un preamplificatore Fono Un sintonizzatore E un amplificatore Integrato Una macchina Che fa Tra l'altro Fa tutto Secondo me Benissimo Per quello che costa Perché non ci dimentichiamo Che mettere d'accordo Radiofrequenze Dentro Allo stesso Scatola È complicatissimo Quindi ecco Assolutamente Tra l'altro Poi Forse dovremmo anche E dando in questo caso Senso E merito Al lavoro Fatto dai tecnici Di Yamaha Dire che Di prodotti All in one Anche solo sul nostro canale Ne sono passati Tanti Tantissimi E oggi Fare un prodotto All in one Interamente digitale Con il modulo Di amplificazione In classe D Che lo ricordiamo Non è digitale Trovate le schede Trovate le schede Già pronte E quindi È una cosa Che costa Relativamente poco E questo È un all in one Ma è un all in one Fatto con Tutti i crismi Delle tecnologie Tradizionali Con tutto ciò Che comporta In termini Di industrializzazione E spesa Cioè se solo guardate Come è fatta E l'avete visto Nello sventramento La scheda Di preamplificazione Ci saranno Un miliardo Di componenti Sopra Insomma Non è Roba da poco No Poi degli splendidi Condensatori Se Premete il tasto Pure direct Parlo ben ingleso Già Perdete Il sistema Di correzione Ambientale Che è sicuramente Efficace Sì Quello è efficace Esatto Tirate un po' su Questo dettaglio Di cui parla Giulio Quindi questa Microdinamica Viene fuori di più Sì Viene fuori di più Perché Che non si passa Per tutte queste Elaborazioni digitali Però Secondo me Questo apparecchio Per la persona Per cui è Pensato Va fin troppo bene Oh Tra l'altro Una cosa La vorrei dire E proprio Spezzando una lancia A favore Del sistema Di calibrazione Automatico Con il DSP Tutti Tutti quelli Che noi Abbiamo provato Chi più Chi meno Erano abbastanza Complessi Da utilizzare E tra l'altro Nel manuale Di istruzioni Si entrava Comunque Nel merito Di come funziona Che cosa Sta facendo L'approccio Scelto Da i tecnici Yamaha È un approccio Fideistico Cioè Schiaccia quel bottone E vedrai Che suona meglio Non devi fare altro Che attaccare Il microfonino Nel momento In cui tu Hai attaccato Il microfonino La procedura Parte già da sé Non devi Fare nient'altro Attacca il microfonino Mettilo sul tuo punto D'ascolto Leva di ritorno Per qualche minuto Quando è finito Sul display Compare Finito Basta E vedrai Che suona meglio Suona meglio Ma perché suona meglio? Intanto per Cominciare Perché fa L'ottimizzazione Della gamma Bassa Ora Per l'audiofilo Esperto Il Trovare il posizionamento Dei diffusori Tale che La gamma Bassa Funzioni A dovere E l'immagine Spaziale pure È un qualcosa Che ha già fatto Nella vita Che conosce Sa quali sono Le procedure Ce ne sono tante Tecniche Per poterlo fare Ma L'utente Ripeto A cui va in mano Questo prodotto Che è un utente Forse più Passatemi il termine Casual Che vuole avere un sistema Ben suonante Funzionante In casa Ma senza diventare pazzo Per lui Quella procedura lì È perfetta È perfetta Perché pure se c'è Diffusori messi Un po' male Quello gli dà Un'aggiustata Funziona Problema finito Anche perché Parliamo Di generazioni E di persone Che Non hanno Tutto il tempo Che hanno L'appassionato Di mettersi Di fare Già è tanto Se trovano Quei 5 minuti Per mettere dentro Il microfono E fare L'ottimizzazione Per cui Meglio Un'ottimizzazione Un po' più Passatemi il termine Grezza Ma fatta Piuttosto che Niente Piuttosto che Niente Piuttosto che Il diffusore Messo malamente E chi si contenta Gode Quindi Sposo in pieno La filosofia Di questo Sì Anche perché Io lo porterei a casa Mi pare che abbiamo Detto tutto Io sono convinto Che è un apparecchio Che può fare Può fare contenti Tanti Lo ricordo E lo facciamo Anche vedere Sì La livrea Nera Quella che C'è stata Gentilmente Concessa in prova Ma anche La più Tradizionale Livrea Silver Silver Che è molto Yamaha Che è molto Yamaha Dei nostri tempi Ah potrebbe essere Pure che hanno visto Non lo so Perché è alla fine Del video Lo sventramento Del 1060 Se ho tempo Se vi è piaciuto Fatecelo sapere Va bene Un'ultimissima cosa Ma tanto poi Ci ritorneremo I diffusori Che ci hanno mandato In prova I gentili signori Di Yamaha Sono strepitosi Quindi sto cominciando A spoilerare Un prossimo video Specifico Su questi diffusori Ci vorrà Lo Scottex No Questa volta No Non lo so Se ci va Però veramente Mi stanno piacendo Tantissime Belli belli Stiamo ascoltando Adesso E vi sembreranno Fellowers Rimarrei ad ascoltare Ore e ore Con Giulio accanto Ciao Campanella Subscribe No Grazie a tutti.